E' un omicidio che parla, quello di Pasquale Chindemi, il 53enne ucciso giovedì sera nel quartiere gallico superiore di Reggio Calabria. Gli investigatori non nascondono una certa preoccupazione, si tratta di un delitto importante che potrebbe essere sintomo di una rottura definitiva negli equilibri già fragili che si vivono nella periferia nord di Reggio Calabria. E ci sono più elementi che lo fanno pensare. Innanzitutto i killer hanno agito con il volto completamente travisato da passamontagna, segno che temevano di essere riconosciuti dalla vittima o da qualche testimone. L'ipotesi è che potessero essere soggetti del luogo. Chindemi non è stato poi solo colpito, ma inseguito e finito nella strada parallela a quella della sua abitazione. L'azione quindi doveva essere conclusa necessariamente con la sua morte. L'uomo è ritenuto intraneo alla Cosca Condello, un gruppo criminale storico e gemone sul territorio di archi insieme ad Estefano, ma con solide radici anche a Gallico. Proprio qui si sono registrati fatti che inducono a pensare a pericolose frizioni interne allo stesso clan. Su tutte, l'omicidio del boss Domenico Chirico, per il quale il Tribunale dell'Andrangheta ritenne responsabile Giuseppe Canale, anche egli freddato successivamente nel suo quartiere. Le indagini hanno portato a diversi arresti con un movente preciso, la lotta per il predominio sul quartiere Gallico, tutta interna al gruppo Condello. I recenti arresti, unitamente ad alcune intimidazioni, come il furgone dato alle fiamme a Carmelo Natale Cartisano, nipote di Chirico, potrebbero aver innescato una miccia molto pericolosa. L'ipotesi degli inquirenti è che l'omicidio Chindemi ne sia la conseguenza. Consolato Minniti per la CNews24